Ditemi la verità, a quanti di voi è capitato di caricare dei video su WhatsApp ma pesavano troppo? A me davvero tantissime volte, soprattutto quando devo caricare dei video formativi, delle formazioni, dei tutorial. Ma c'è una soluzione a tutto e Dio l'ho trovata. La prima cosa che dovremmo fare è andare nel nostro App Store o il Play Store di Android e cercare, con l'applicazione in questo caso, Compressore Video. E lo dovremmo scaricare. A questo punto cliccheremo su Comprimi Video. Sceglieremo il video che pesa di più. Andiamo su Don e lui ci dirà il video originale pesa 537, la compressione pesa 268. Dobbiamo andarla a ridurre. Cliccheremo su Modalità avanzata, abbasseremo il Bit Rate, 60,6. Perfetto, comprimere. Possiamo anche andare a cancellare il file pesante dal nostro smartphone. Ok. Avete visto? È un'app davvero fantastica che ci farà perdere pochissimo tempo. Davvero. È disponibile sia per iOS che per Android. Seguitemi per altri tips. Alla prossima.